ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono tenere marchese e nel video di oggi vi andrò a svelare come fare una ricarica gratis al vostro smartphone al vostro smartphone al vostro smartphone in che senso chi sia apple o chi sia android non ha nessuna importanza ovviamente quello che vi chiedo è di non abusare di questo metodo ma usatelo solo in caso di necessità ovviamente potete condividerlo con i vostri amici con i vostri parenti con vostro fratello con vostra nonna con chiunque sia però quello che quello che magari vi chiedo vi consiglio di non abusare non abusate di questo metodo usatelo solo in caso di emergenza detto questo vi svelo il trucco è molto semplice ragazzi ed eccoci qua ragazzi io adesso in mano ho ovviamente due cavi uno per android e uno per dispositivi apple bene l'unica cosa che resta è adesso spiegarvi il metodo allora andiamo a inserire ad inserire uno dei due cavi in questo caso io ripeto ne ho due perché voglio farvi vedere che funziona sia su apple che su android e vado in questo caso io vado a collegarlo su vado in questo caso vado a collegarlo sulle porte usb frontali del mio case questo nero è per android e questo bianco è per i dispositivi per i dispositivi apple come vedete ragazzi nessun trucco e nessun inganno vedete che i fili sono qui sono un po lunghetti aspettate che sono un po lunghetti eccoli qua eccoli qua ripeto cavi completamente completamente collegati avete visto bene adesso non vi rimane altro che inserire cominciare con l'ipad ad inserire il cavetto nell'ipad avete visto ragazzi e in questo modo la ricarica ovviamente iniziato ovviamente mi dice che al cento per cento perché già il dispositivo è carico però se adesso io guardate tolgo il cavetto la batteria non è in stato di carica se lo vado a reinserire batteria è verde perché ovviamente sta caricando stessa cosa per per android spostiamoci su su uno smartphone android che sia anche un tablet non ha importanza prendiamo il cavetto sempre ripeto collegato in precedenza e andiamolo ad inserire nel nostro smartphone android avete visto ragazzi ovviamente anche questo mi dice carica al cento per cento perché ovviamente già il suo di dio è stato caricato avete visto sia questo che ovviamente spunta anche il segno della corrente che dove ci indica lo stato di carica diciamo che in carica anche se al cento per cento ma è sempre in carica stessa cosa su apple batteria verde perché è in carica e in questo modo ragazzi starete ricaricando i vostri dispositivi in un modo totalmente gratuito e senza nessun costo non dirmi che l'hai fatto davvero mi hai deluso mi hai completamente deluso sai bene ragazzi il pesce d'aprile finisce qui e il video di oggi termina qui se il video è stato di vostro gradimento come sempre lasciamo un bel mi piace condividetelo e mi raccomando iscrivete al mio canale attivate la campbellina delle notifiche per non perdere nessun video futuro ciao ragazzi un bacione e a presto ciao